Forse che corrisponde alla realtà delle cose. L'idea di costruire una volta per tutte la giustizia in terra, oltre che essere un'idea utopica, è anche un'idea pericolosa. L'unica idea concreta è che si debba sempre poter agire per la giustizia. Questo fosse il senso della democrazia. Che siano aperte le condizioni per agire per.